Sono proprio io Il re dei profumi Crazy questo mio amico è matto Miglior foto della mia galleria di Il marcio Il marcio ha una galleria con 127 foto E ovviamente le E scopriremo che cosa ha I segreti più recchi E vabbè Food Disneyland with Fat system tabac Chiede soldi per cose Probabilmente non è in Italia Dato che c'è scritto erba Cibo tabacco Esatto Ma il negozio con il zerbino della Bic Ma cosa sta succedendo in questa foto Si ho visto E' incredibile E poi c'è una tipa che viene tatuata sulla coscia E io dico il tossico 100% Io dico il tossico perchè si Lui è mio nonno Basta Ci si chiede Non so chi sia spero sia lui E' un joller Lui è uscito palesemente da balatro Oppure tre tipi in moto quindi E' a Napoli Senza casco Ovvio Io ho avuto il joller Si Se si ripete la stessa persona potrebbe essere lui Dunque abbiamo Amici suoi che stanno giocando a calcetto Lui è felicissimo perchè ha fatto gollo Oppure ha rotto la gamba a un altro giocatore Qualese Ho quattro persone di merda Dior Ma chi sono sti qua? Vabbè Io voto il calcio Sembra Pasquale il mio amico quello lì Vabbè made in heaven cos'è? Ma poi col volume che si alza mi fa un sacco ridere Quattro pisciate Quattro giornate chiuso Chiuso Io voto made in heaven perchè mi fa troppo ridere il volume Che si vede Lo faccio sempre screenshot e si vede anche il volume Dei tizi che sono su dei bancari Tossici palesemente Vabbè Oh due tizi Ma non riesco a capire il contesto di questa cosa Eh dobbiamo inventarcelo È tipo una sorta di arte contemporanea E lui ha scopato Che gli ha scopato la moglie E l'altro dice Come? Ma non sono sposato E lo vuole picchiare Però c'è anche della fratellanza Non sono così tanto nemici qua O sono ubriachi Infatti non era sposata Quindi poteva scoparselo Ah ok Vabbè La fratellanza vince Sì Meglio gli amici che la droga Assolutamente Non è vero Dunque qui abbiamo un marocchino con dietro un alieno Come puoi vedere dalla luce qui Un pescatore L'attore quello che è morto Un altro marocchino Uno che si fa i cazzi suoi Ma quale altro è morto? Eh non mi ricordo Eh troisi A me sembra Qui c'è I miei chi godoi È vero Qui c'è una spada gigante E qui due lesbiche Lesbiche perché si Grazie Uno che sta mangiando una busta di qualcosa E un tossico Oppure ha ancora tre in moto Però questo qui è il tossico di prima A parte che sta arrivando un messaggio con scritto porco dio a sinistra Non l'avevo visto Non l'avevo visto Basta vinto Si dice quello Sta arrivando il messaggio Qui c'è Rufy Molto sexual Esatto After sex O qui Rufy che viene Praticamente preso dal controllore Non ha pagato il biglietto E sta per borlarli E sta per borlarli Ecco si È entrato da Harlong Senza biglietto Senza visto Ma lui a testa alta entra lo stesso Mi l'ha visto Io ho molto la scena gay però Perché c'è il mercante in fiera qui È vero Basta vinto Eh dopo che fotti i tuoi amici giochi con il mercante in fiera Chi è? Cosa fa il signore con il sacco? Non lo so voglio saperlo Voglio sapere cosa fa il signore con il sacco Igi Quelli là sono due normalissimi che si baciano Non ho fatto Oh E' retroscena dell'alieno La stessa serata Bisogna vedermi meglio Pazzesco Secondo me il possessore del telefono E' neanche i godori Si Perché è sempre lui che compare A destra è la scena prima del sesso Sono fuori ubriati Di marcia Prima zie eccetera E poi vanno a casa a giocare al mercante in fiera E poi fanno sesso Ma qui c'è Mio cugino con la maglietta di ricche e morti Perchè morti mio nonno totale Io voto ancora la serata con l'alieno Con l'alieno? Grande muo Quella sarà la sua tipa a destra Si Sono zoom incredibile del fascino questa foto And'angolo pazzesco E' voto l'arte qua Ma dov'è? Poi no No Metropolitana Metropolitana sì perché già terra è Vuoi votare la metoda sinistra? C'è di tutto ne si capisce un cazzo No qua è proprio una foto fatta bene Complimenti valedetto bastardo Chi? Cos'è di basilic? Perchè questa ha un nome? Oh c'è un manga a destra E cos'è guns? Non lo so Può essere Io voto il manga Si C'è anche il suo piede Siamo dei nerd del cazzo Beh mani in alto Prima del senso Cos'è contadino? Contadino vince C'è Posti Villaggio con direcce Gli aspettatori della metropolitana o Fragole e cetriole Questa è quella prima in metro con la tipa in primo piano Lui è terrorizzato E' allergico sia alle fragole che ai cetriole No è allergico alle donne Lo capisco Fragole e cetriole è una combo che non mi sono mai sognato ma secondo me è buona Eh dobbiamo fare Però lui Lui è sempre Perennemente movimento ma loro sono fermi in HD E' incredibile E' incredibile Trascende l'universo E' tipo task Perchè sono Sono veramente fotogeniche Tutti e tre Si Perchè noi siamo dei cessi In quella panchina fosse stata più centrata sarebbe stata perfetta la foto Si stava meglio quando si stava peggio Drogati a terra Si Ma che stronzata questo murale Che aiuta gli altri e aiuta se stessi Ha ragione però Che è una stronzata o ha ragione il murales? No ha ragione Eh? Ha ragione Rufy che è una stronzata il murales Ah ok Io voto il murales Murales? Si Va bene Miles Murales Wow Mood con lui palesemente morto Forse è nella sesta stanza del vecchio Forse è l'aftermath di cosa fa il vecchio col sacco Dopo dobbiamo vedere bene E' dopo c'è da guardare Qui c'è Cartogaine Due lesbi che si battono dietro Bello da dire E' boh Ma toccano le cosce delle lesbiche E' vero Wow 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 Ma poi che vestito ha quella a destra? Ma quella a destra nella foto a destra è quello morto a sinistra Eh si anche secondo me E' lui Io lo voto da vivo dai Vai Perché prima si ubriaca e poi va sul divano Eh vabbè che sta succedendo Vabbè una storia di tre tizi ubriachi contro quello che prima è andato a pisciare mai chiuso Completamente matto Completamente made in heaven lui Ma è quello sulla panchina che è sempre in movimento secondo me Può essere Lui è il parkinson Non stare mai fermo Parkinson terribile Il suo cuore va a Pump a mac 20 sempre Talmente veloce che non può neanche morire Una vita terribile Stare fermo non può morire Che schifo mi spiace E' terribile Cosa sta succedendo E' simili Ma perchè fa vj con la destra? Fa vj con un cinese Eh vabbè Ma no è rufi con la destra Si con la destra è rufi Quella sinistra non lo so Sono tutti strafatti 100% tossici drogati Io voto quello a destra Fa vj con un cinese Con un zeb E' scherzo Zeb cinese Non lo so io voto quello a sinistra vai Vai testa Ma va Posso Vai Una normalissima foto Ecco questo Però presa da facebook Questa cazzo è perchè Ha un collo Deforme E' terribile Non ha lo stacco tra il mento e il collo Perché la barba E' rasata Si Voto lui Anch'io dai Questo sta cucinando con una fiammata Ha devastato tutto Ha devastato tutto Ha devastato Ha preso fuoco quasi tutto Allora madonna figa Aveva stata la cucina Ma a destra C'è il mech indiano però Cacchio Si si è E' lui Entra Però è indiano Si si I'm under the water Io voto l'indiano qui Anche se c'è della lore qui a sinistra No io ho voto la fiammata Si dai Ma come cazzo hanno fatto E' triz che butta le patatine surgelate Però c'è del foreshadowing Perché sulla maglietta c'è scritto hot chili Quindi stavano cucinando la carne col chili Come qui c'è il barattolo di fagioli Hanno fatto una fiammata devastante Io voto la sinistra Si Allora a sinistra è un'altra serata Non penso sia una che abbiamo già visto Cosa qui a sinistra è uscito dagli anni 90 Palese E' vero i vestiti sono diversi Quindi non Il luogo è diverso Lui non c'è E' tra l'altro abbiamo tre E' perchè sono tre cani Eh si Ma guardi voto i cani sono sempre E' quanto è grosso Tello questo è bellissimo Bellissimo lo voleva carettare Si La vibra che è tagliato fuori dalla fossa E' vabbè quanti misteri cosa fai il vetto col sacco Ma cosa ha fatto questo uomo per essere tagliato E poi abbiamo una parata Con questa donna che ha tipo una coda gigante Ma è tipo un cazzo enorme che gli si dà il culo Questo è un problema Si io voto a sinistra E' quello è un problema Però è quattro c'è Comunque la lore della foto la voglio sapere Sì Io spero abbia seminato foto che fanno ricostruire una lore Qua quanto è fatto questo Qua quanto è fatto questo E sono completamente diversi Sì infatti Mi giuro Sono completamente diversi Con la sinistra Boh uno si tocca il cazzo Questo sta vomitando Io voto i gemelli non gemelli E' come noi quando diciamo guarda è onion ring e non è mai onion E' vero Che a sinistra E' una serata dove Questa è Tom Holland Ma dove lo vedi Tom Holland E' Tom Holland Ma che Tom Holland conosci E invece a destra Stran... sa che cazzo stanno facendo Stanno giocando con delle palle Poi c'è questo qui che è matto Sembra... aspetta Sembra una di quelle teste Che hanno gli sciamani Quelle che rimpiccioliscono Questo tizio Sembra anche Gagamaru di Bluelock Per qualche modo Adesso lo cerco Come si scrive? Gagamaru Post E' vero E' lui E' il bust Ma chi è questo? Gagamaru Ah ecco Io voto Gagamaru Gagamaru Io voto lui Post Praticamente c'è Rufy che sta toccando la tempia della donna Fra 5 secondi morirai Si stavo per dire anch'io Kenshiro al momento Ah ok c'è una squadra di bambini Esatto Yurikeki Sì Non penso Ruccosifredi Groppi 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 E' vero Groppi E' ma groppi ovunque Frencolo groppi Che insciro Io si Io si Non so cosa sia quella storia Boh Però lì abbiamo dell'oro Si cosa hanno comprato dal burger loca C'è scritto loca Burger Nera Locanera si Locanera E' hamburgeria Non è buona mi fa venire fame Locanera cerca Dove Vumero Così scopriamo dove abita sto tiglio E' fatta Cerca ristorante O'hamburio Cuneo 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 Pavia Pavia o Cuneo No questo è il ristorante Eccola con il logo del loca E' questo No un altro logo Burger station dobbiamo scrivere Cerca burger station Eccolo Napoli Allora è incredibile Napoli Eh scritto Napoli Vedi se il logo è quello Se riesci Locanera Allora qua Burger station Irish pub Dov'è però Napoli da vivere Locanera Burger station Si sono di Napoli questi Napoli da vivere Napoli A quanto pare si che dove sono finito No Vabbè chiudi facebook non mi interessa abbiamo scoperto Va bene sono di Napoli Ma sono di Napoli Io motologa nera perchè abbiamo Ci abbiamo Indagato fin troppo per non scegliere Sì Questo qui sta mangiando dalla pentola Fatto la pasta solo per se stesso maledetto ingordo Assolutamente Pezzo di merda Quella d'essere invece è bellissima E' proprio E' uscita dal 2010 E' proprio una bella foto tutto il verde Loro sdraiati Questo qui adesso è morto palesemente un cadavere L'hanno frecciato L'hanno frecciato Però questo qui è un ingordo di merda Un bastardo Io voto lui Io voto il paesaggio Allora vai Testa Oh ha vinto l'ingordigigigita L'ingordigigita Si Il calcio E' un tipo E' un tipo E' un tipo perchè non penso sia lui Forse Com'è non è lui quella destra Con la sinistra si Si con lui si Eh che votiamo Il calcio dai Il calcio dai E vabbè Aveva anche l'app del mcdonald aperto l'ho visto Bellissimo Adesso C'è sempre più gente su quella moto Basta Adesso che abbiamo capito di dove sono Nel senso Eh beh voglio dire L'avevo detto io all'inizio Si Che erano in tre moto e quindi Napoli Ma non c'è Rufy qui Porca vacca Eh ma lui sta facendo la foto Ha senso Mentre a destra abbiamo i tre bros Con Swamp Thing qua L'erba a caso In bianco e nero molto vintage Io voto a destra Va bene A parte che a sinistra Troppo tardi non lo sapremo mai più E' un cazzo enorme Buon per lui Perchè usciva la gamba di lui Cos'è quella destra E' proprio una di quelle immagini di cui Ti vergogna e non vuoi mandarla in giro e lui la metti E' vero un chadone L'ha messo pure su Un uvufufu Devi scegliere Un uvufufu Mi hai detto scegli Oppure foto belle Ricordo incredibile Ma sembrava un 2025 Invece un 2023 Ma a me viene dal futuro Esattamente Viene dal futuro oppure dal passato Eh questo Questo mi serve doc Doc marrone Quale scegliamo Il bimbo spastico O le foto del futuro Io voto il futuro Va bene Foto Uro L'acqua Bevete ragazzi Ve lo dice Rufy Però si è bevuto tutta la vostra acqua Dov'è la mia acqua? Attenzione Screenshot al mare Esatto O nostalgia di casa Bello quel quadro Si ma se ho questo qui in casa non ho tanta nostalgia nel senso Io invece si mi ficcherei il cazzo in bocca Ho capito ma Se me lo rinfresca Eh mi hai convinto dai Ok O vuoi la tipa in costume No no voglio farmelo succhiare da lui Ah Va bene Io penso che Napoli sia ancora l'ultima speranza che ha l'umanità per sopravvivere Non penso proprio ragazzi Ok non penso proprio però legge a destra Fabio Massimo Vabbè per me ha vinto Fabio Massimo Eh beh Cos'è Flamingos Il nostro gruppo è Fenicotteri Ma perchè tipo le foto degli amici hanno nomi no sense Mentre quadri animali hanno nomi scritti da lui Eh perchè valuta le cose più importanti a quanto pare E allora vincono i Fenicotteri Ma perchè poi ha sempre il 15% di batteria Non lo so ma è meglio vivere limite ogni volta Oh qui c'è ancora E' il prima E' il prima E' il prima Perchè non è ancora stato bruciato Esatto Dobbiamo ricostruire la lore Quindi ci foto il quadro di merda Assolutamente Io voglio quella a destra Cosa sta succedendo Cos'è Cos'è Allora qui ci sono dei pesi Allora c'è un botto di roba Analizziamo Abbiamo un diario BU Esatto Pesi arrugginiti Delle mutande Calvin Klein E' vero La sua scarpa Una cyclette L'acqua perchè si deve sempre bere ragazzi bevete Un'acqua di ruffi Un'amiro Una mattita Non so cosa sia quello Cos'è un Tampax quello sul tavolo Eh non lo so Poi c'è una Non li uso più Una scatola con le medicine Non so cosa sia No io voto Marco Gitti No io voto quello a destra Eh allora aspetta Testa E vince quello a destra E vince la ciao crosaglia Tipo quelle foto dove c'è di tutte non riconoscere neanche una cosa Ma è vestito da ruffi E' vero Ma allora Avevamo ragione Gnaki Godoi è lui Ma che cazzo Ruffi e Tanjiro Molto gay O le pie Però le pie hanno le scarpe E allora non è le pie le scarpe Quindi vincono Figa ci abbiamo azzeccato E' perfetto per fare ruffi lui Qui qualcosa incredibile o Tizze che stanno dormendo Durante un terremoto devastante di Napoli Eh ma perché la foto Ponte d'un suo amico quello che Gli batti il cuore Ma come è il posto all'or Questa all'or Non sta mai fermo Un'allegra famigliola Welcome to Ischia E' andato a ricchia Potere starci O lei che non sa disegnare Questa un libro su Omero Cosa cazzo c'è scritto in basso? Desiderio Ah E' oppure un bel Portrait Ma ha un serpente qua O è la cintura Una lucertola non lo so Eh che son di seguido Non lo so Avevo toccolo a destra Va bene dai Eh cosa fa? Questo redentore Oh Simbolo della medicina Ma che cazzo vuol dire? Sempre nella metro quella Ma quello li sta fottendo il motorino E' vero Posso Napoli al 100% Gente nuda e tizzi che foto Tizzi quella a sinistra Grande uomo lui Inaki E' uguale a Inaki Si assolutamente E' quella in cui ci assomiglia di più E sotto c'è Domenico in basso a sinistra Ma guarda chi c'è a destra Fabio Massimo? Mio fratello? Eh mi sa che O I Fantastici 4 O Fabio Massimo Però di Fabio Massimo ne abbiamo già uno Si allora vince Guarda è uguale a Domenico quello in basso a sinistra Si assolutamente Vince Domenico dai Domenico e Rufy Esatto Insieme agli altri due fantastici Quanti soldi ho amato Ollare ollare Eh vabbè Contro lui prima del sesso No chi è sto qua? Non è Inaki? No è questo qui quello a sinistra E' un fasullo Quindi soldi o puttane? Questa è la vera domanda Beh ha speso tutti questi soldi per avere le ascelle di lei Le ascelle poi Si Io voterei la tipa Va bene E' felicissimo Perché sono contento per il bro per una volta Ha speso tutti quei soldi giustamente I maschi essere tipo Non li conosciamo ma Sono contento per il bro Concordo La serata Questa è prima che cali la sera Quando c'è l'alieno Perché il monumento è lo stesso quello dietro E' vero Infatti se Rufy Sono stati lì tipo 3 ore finchè è scesa la La notte E poi ci sono le lesbiche I capelli rossi Che tu hai detto lesbiche Quello con la maglia ricca e morti Uno dei due marocchini che non sembra marocchino Ma sembra il cantante Smiley Quello in mezzo In basso E si ricollega il video che abbiamo fatto quattro giorni fa Esatto E poi c'è Ignaki eccetera Ma guarda Ignaki Lui sa già Che arriverà un alieno Lui è già pronto Eh si Lui è un po' sconvolto Dice Pivotiamo quindi Eh beh qui c'è una lore incredibile quella a sinistra Allora a sinistra Comunque inizia a credere che il telefono non sia di Ignaki ma di questo qua a destra Probabile Però per me rimarrà di rufi il telefono Qui stanno giocando a calcio in un posto incredibile E' quando tuo padre ti dice facciamo due tiri campioni e lo fa veramente Incredibile Letteralmente E poi ti porta anche al mare a destra Si non è il padre però Appunto Io voto a sinistra perché sembrano le favelas, i quartieri dove giocano a calcio, i poveri Sì La destra è incredibile Ma questa è quella di Stranger Things, la bambina Ma che Stranger Things hai visto? Eh la bambina che corre Esatto si Max E lei è Michael Schofield Ah quella ci assomiglia E voto qua a destra con Max Vai Cosa sta succedendo? Ma quella a destra? E' un asino Vince Vince quello subito Si Una pignatta enorme cos'è? Qua ha una copertina di un album che stanno facendo E' anche bellissima come foto Sì E' qui a destra E' l'immondizia dietro per ricordarci che siamo a Napoli Vince basta E quella a destra non mi dice molto No no si fotte quella a destra Qui è triste perché è con le donne ma qui è un po' più speranzoso perché è col cane Esatto Ma è lui il jolly ha fottuto il cappello del jolly Ma è lui Cazzo E' lui il proprietario del telefono Quanto altro ha le bici in reggiseno No infatti Ci hanno delle tettoni incredibili Vince il cane perché vince sempre il cane Eccolo lui che fa il duro con la sigaretta che non sa accendere grande uomo Ma è quella con la maglietta di Rick e Morty Si si Quindi lui è il capo del telefono Non lo so Non sto capendo Vogl su Latte Giulia Vogl su Latte Giulia Ah ecco bella Poesie contemporanee Ma io voglio lui che un bullo da 24 kg Va bene 24 kg Accureita effettivamente Santino Pure la Sagrada Famiglia cos'è No lo so ma il Santino è incredibile Felicissimo Ha trovato la figurina dell'ultimo Papa che gli mancava Vai Colleziona il nuovo album Papa Vi voglio Sulla maca Oh è tornato Rufy O tra due donne Però sulla maca ha un senso di sfida in quegli occhi Si ma sdraiarti tra due donne è meglio che tra una maca Si ma non è proprio tra due donne Nel senso è sulla panchina fredda Fontana fredda? Ma chi c'è a sinistra? Ci sono delle braccia Si è un intiposo gigantesco Ti giuro È Big Boss Romania come si chiamava è terribile Final Boss Romania Ma vabbè vince lui perché c'è il fai dal Boss Romania C'è troppo a carne al fuoco in sta foto MEN Ho qui lui Che canne è un fantasma questo dal che sta succedendo Ma che cazzo di manga c'è sulla sua maglietta? Non lo riconosco Eh ma sono quelle magliette con i manga fasulli Ma che cazzo Ci sono anche qui alla Ocean Sì esatto E allora easy Ah ma stanno giocando Pensavo fu guarda se è una partita MEN è la grafica realistica ormai Vabbè vince quella sinistra Ma ancora Qui è quando l'hanno abbandonato Completamente Sotto il ponto Sì questa non è la sua ragazza questa è la sua mamma che l'ha abbandonato Ha detto basta L'ha abbandonato malissimo Sì e lui ci è rimasto proprio di merda Ed è qui che ha iniziato a prendere il Parkinson Perché come vedi tutto il corpo è fermo tranne la mano Tra l'altro si chiamava Il Marcio su Fufu Ed Il Marcio si chiama anche su Instagram Quindi confermato che lui è il possessore del telefono E dopo lo cerchiamo E io voto l'abbandono Poverino A 24 anni l'hanno abbandonato Qui ci sono delle silhouette Naruto Sì Votto voto Naruto Naruto Zero argomentazione Ma questo che non è rufi Chi è questo? Chi cazzo è loro? Ma è Richard d'HTT È vero È vero O loro che si fanno le unghie da froci O loro che si fanno le unghie da froci Vabbè Vabbè Loro che palesemente copiano trizio Scusatemi Devil Avenger sull'albero A parte che è letteralmente la stessa foto due volte No non è vero perché lui qui almeno è un po' diverso Non è vero è un po' diverso Vedi? Lo sciupa femmine Ma si è fottuto il cane Vedi? Vince il cane non c'è un cane Ma se l'è fottuto è felicissimo Ritratto Quello di prima Omunculus Omunculus Con il telecomando senza lo sportellino per le pile Certo La tipa con la birra O una tipa che sembra fintissima È vero Questo sa di cattiveria Tipo un frontespizio di qualche manga Con il capolo in mezzo Speriamo di no Si è ridotto malissimo Ma questo è John Lennon Mi immagino Pippo Vince John Lennon Ma qui si è fatto un taglio devastante in bocca C'è il cane in full C'è il cane in full E' come quando prendi due figurine e finalmente è in altra parte Vince l'altra metà del cane Cane completato col bancale qui Questo è l'abbandono tra Imiaki e Ace Che si salutano l'ultima volta Esatto E qui c'è la ciurma Questo è Sanji Questo è... Questo che cazzo è un alieno E' l'alieno lui Ma... E' durissimo lui C'è un'espressione incredibile Lui ovviamente E' Oda Lui è Zoro Lui è Chopper E' lei è Frank Votto alla ciurma Cazzo è questo Qui c'è un gatto Ero ischia Vince il gatto Oh ma questa è tequila e tacos E' la maglietta che ho io Mi ha fottuto la maglietta Fortissimo Che testa di cazzo Testa di cazzo E' napoletano Hai ragione anche tu O il gatto napoletano Il gatto vince Vabbè Le due pussi vincono Simili dove? Al bar del paese Come gli altri che erano simili Non erano simili Qua se non l'avevamo capito Fino da dolore che erano a Napoli Ce lo fanno capire benissimo Si Al bar del paese Ma poi c'è stato guardando in tv La gang dei minoreni E abbiamo Rufy Rufy e Nico Robin Si Ma vincono Rufy e Nico Robin a Napoli Terribile Ecco perché è arrivato il battergola a Napoli Ti vedo male Living group distrutta Madonna C'è anche la banana marcia qui A te Che cazzo c'è l'ultima sfida? Cos'è che succede? Si dava i capelli nel lavandino L'acqua lavava via i peccati Che cazzo c'è vero Oppure prima persona L'acqua L'acqua Bevete ragazzi Bevete dal lavandino Però con la bocca Non con la testa Ah E' l'alieno contro La barra del volume Ah tra l'altro Ma lui non è mai più comparso Ma lui non è mai più comparso Ma lui è mai più comparso Ma lui è secondo te Questo si è O è lui Perché lui è il marcio Lui è Rufy E lui è Mac 20 allora Può essere Mac 20 è quello che sembra Il marocchino Cantante smiley marocchino Per lui Sì è lui Però dobbè capire se Mac 20 è lui Vabbè io prenderei l'alieno Si l'alieno 100% Assolutamente La copertina dell'album è una bella foto L'album bello con l'immondizia Vince Oppure una foto Delle bottiglie del cazzo Dai vince l'album Si Man o la foto è enigmatica qui che c'è E' un Rebus E' un Re Io voto Rebus Va bene No i froci No i froci O Paul McCartney che si fotte tutta la pasta I froci in fiera Però lui è proprio un ingordo di merda Ha proprio preso la pentola Da solo L'ha schiaffata sul tavolo e inizia a mangiare Questo è quando abiti da solo e non hai voglia di usare piatti per non lavarli Si però lui non abita da solo, quello è il bello E allora un ingordo è vasto Si Io voto l'ingordo Vai votalo If you want Omunculus o Mach 20 massima potenza Si c'ha quella barba Si si è Mach 20 Omunculus Senzato sportellino Vabbè come cazzo fai a dormire così terribile Eh ma quando dormi dormi ovunque Ma lui non dorme Esatto lui non può dormire Lui è sempre attivo C'è una loro incredibile qua Il santino mancante Oh la foto incredibile Eh la foto bella col grand'angolo è suggestiva molto Si Però guarda quanto è felice Prima era con le troie e coi cani non era così felice Trova il santino e è felicissimo Ti giuro Cacchio Eh questa è dura Vai mettiamo il santino Va bene Living room o fenicotteri A Napoli poi Eh Perché ci sono i fenicotteri a Napoli Perché ci sono molti gamberetti a Napoli Ah ecco perché Boh io voto i fenicotteri Il tossico completamente rimosso dal mio cervello Meno male rimuoviamolo per sempre Prendi il cane Il futuro o il cane Ah il cane troppo bello Eh si Mezzo cane o la lore della vampata che non scopriremo mai com'è successo No io voto la vampata Perché il cane ce l'abbiamo già Allora abbiamo il cane full Quella sinistra un gagamaru Minchia è gagamaru Beh però lui è un discepolo del mach 20 Lui è il mach 10 sta provando a muoversi La no il mach 9.9 Ah va bene Eh Mach 9 E' molto bella come foto Si è terrorizzato Tutta la merda che abbiamo visto Cosa fa signore del sacco Voglio sapere prendilo Si Tanto li era l'alieno parte 2 quindi Si esatto l'alieno parte 0 questa O le favelas Le favelas Favelas? L'alieno completo L'alieno 1 Comunque ha solo una maglietta sto qua Quella di Rick and Morty Eh sono da Napoli Io voto Rufy vestito da Rufy Si incredibile un guard L'abbandono o ti scopo la moglie? Però mi fratellanza Quindi io voto l'abbandono Si è proprio C'è rimasto malissimo poverino E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Ma quindi non è un joller Lui ma è il cui ha fottuto il cappello Ma lui è Mach 9 Non lo so Non penso O stranger non Ma non è un po' Oppure i due Beh joller è joller Sono femmine quindi sarebbe le due Fana anche scrivere Post Io voto il joller comunque Si Il calcio o le unghie da froggio Il gay Il gay Il calcio perde sempre ragazzi Ricordatevi Il terremoto è incredibile o gli fotto nel motorino? Quello che gli fotto nel motorino è il cristone d'entorno Sì Giorgio parte 5 o il contadio? Il contadio Sì Cosa avrà fatto quest'uomo per essere tagliato fuori? Non lo so Ma io voglio saperlo Anch'io Ehi Rufy che stai guardando questo video Dicci cosa ha fatto quel uomo Nei commenti Il calcio perde sempre Kurt Cobain che tocca le cosce alle lesbiche Sì è vero è Kurt Cobain Oh il duro da 15 kg O quello che ti fa il blowjob a casa Il blowjob con le vigor Però aspetta un attimo Perché Sta reinterpretando il quadro Lui che soffia Ma non è vero Sì perché poi fa il fumo E quindi sta soffiando Vedi Ma sai che Vedi poi è anche vestito di blu E lui Basta è finito Io voto il quadro comunque E io voto lui Tra l'altro qua è vicino al murales Cosa dicono gli albaneti Io testo E vince il fumo Michele Massimo Fabio Massimo Fabio Massimo Contro l'oca nera Sì ma Fabio Massimo Proprio una pagina sua Fabio Massimo vince Il manga Il manga che non sappiamo di cos'è Ken o mi fotto il cane Il cane Ma lui è quello della pentola allora E' il joller lui No No Forse si ha le guanciotte da joller Forse però lui è No non è il 9 punto Mach 9 Ok è solo joller lui E' il joller I tre Il cane assolutamente Che boss è questo cane comunque E' bellissimo cazzo I fantastici quattro o la ciurma No vabbè domenico vince Però guarda questa a destra Ah è vero Me ne ero dimenticato cazzo Domenico o l'alieno Vedi qui hanno finalmente trovato l'alieno Questo è l'alieno di Andrew Lui sai chi mi ricorda quello con la faccia a destra Mi ricorda Sebastian Stan Per qualche motivo il soldato d'inverno E' vero E ho avuto la ciurma Qui c'è anche Markur E' vero è lui Vabbè dai la ciurma Markur di Napoli Il fratelli fallito Ma poi non sono mai più apparsilo Ne hanno lasciate all'aeroporto qui e basta Esatto E io ho dei fratelli falliti I fallitelli Eh vampata zero o Mark 20 ferro Vampata zero De pussis o de pussis De pussi al singolare 700 euro per leccare delle ascelle o lavarsi la testa in modo male La testa la testa La testa la testa Vuoh vuoh Noo Nico Robin e Ruffi al par del paese O l'asino O l'asino del Napoli L'asino Ma poi ha dei labroni incredibili l'asino guardalo Eh sì per ficcarsi meglio il cazzo dentro Aiii Asino Dai Isaac Asimov Il cazzo Oh Oh mio dio Cosa avrà fatto quest'uomo per essere tagliato fuori dalla foto che poi non è vero Hanno tagliato anche la signora qui quindi non sanno fare un cazzo Eh ma c'era un altro uomo probabilmente E chi lo sa Non so io lo voto vuole saperlo Sì Intanto non lo sapremo mai No infatti Fabio Massimo o Ruffi vestito da Ruffi Ahhhh Cacchio ma Fabio Massimo È Fabio Massimo dai che cazzo gli dici di no è Fabio Massimo I tre Cento per cento I cani troppo belli I gemelli o il santino Porca vaa Sono felice per il santino io voto Sì sì I gemelli sono falliti e basta L'alieno o il rebus Io voto l'alieno Anch'io l'alieno dai Il fumo il fumo io voto il fumo tu Io anch'io voto il bullo da quindici chili Fai che infatto dio La ciurma O il contadino Cacchio questa I can milk you Però lui mi fa morire Non ci fosse stato lui avrebbe vinto l'altro Ma guardalo È un rettiliano Cosa cazzo eh Cacchio questa No ho voto quella sinistra E ho voto Paul McCartney E allora Desta per me E vince Paul E vince Paul McCartney Incredibile Imagine all the people Mach 20 è il gatto Mach 20 per me Guardalo Guarda anche il piede Non è Mach 20 Questo questo è Mach 100 Si sta evolvendo Mortissimo cazzo Vampata zero o Pulma Pulma Si metropolitana Dici che lui è joller No secondo me lui è Paul McCartney Non ha le guanciotte da joller Ah ok Secondo me è Paul McCartney Quando si è tagliato i capelli Avrei avuto a destra Perché è molto estetica quella foto Si Della vampata mi piace di più quella D'uovo che è bruciato Fa più ridere Lui che si toglie Si lava i capelli o le favelas Le favelas mi da Di pomeriggio di domenica In cui sono Belli felici in estate Queste sono tipo le sei del pomeriggio E stanno giocando fuori Si più che altro mi ricorda Molte scene della mia infanzia Quindi mi piace Va bene Io lo voto Questo è adrian Ma vampata l'abbiamo votato vero? Certo Ah ok Cane intero o cane Fottuto Copato Io voto il cane di joller Qua quindi Si lui Ma quindi joller e Paul McCartney Perchè non sto capendo Non sto capendo neanch'io Dopo li mettiamo a confronto Cacchio Il cristo fottuto Ho l'asino Ah Ma che bello Lui è sul tavolo che dice Provate a sfidarmi E poi gli foto nel motorino E vanno via Anche storta la foto Che fastidio E' quello il bello Esatto Io voto il cristo Però c'è un cielo bellissimo In quella foto Per qualche motivo Eh Quell'azzurro proprio blu notte Eh perchè sta scendendo al cielo lui Fortissimo Mentre ti l'abbiamo un asino del Napoli Io voto a sinistra Si L'avampata L'avampata Oh il vecchio Porca vacca Nooo Porca vacca Cosa fa il signore col sacco Forse cerca di bloccare La vampata L'avampata dell'altro Pazzesco Non c'è riuscito comunque Cazzo Comunque avevi ragione Le tende erano le stesse Sì Quindi ha soffocato il giovane Quando c'era il tipo svenuto sul divano Ma lui è Mach 20 Infatti anche La padella si muove Ecco come ha fatto Non è Mach 20 E la barba è quella Ah si è vero È Mach 20 Perché Vedi che è fermo lui Ha concentrato Tutto il Mach Nella padella Talmente tanto veloce Che è riuscito a creare quella vampata E invece lì c'è il vent Ma cosa fa il signore con il sacco? Il signore con il sacco Io voto il signore con il sacco Io voto un Mach 20 con la vampata Eh aspetta Testa? Eh certo Mi va bene Mi va bene Mi va bene La vampata Salutiamo il vecchio Un'ultima volta Sicuramente Perché domani muore Il signore con il sacco Assolutamente Ma chi cazzo sei tu bastardo? Eh The goat lui O l'abandono Il frigorifero dietro Il frigorifero ad angolo Ma come è addobbata quella casa? È un monolocale C'è il piano sopra? È la casa di un joller Ha senso E quindi ha una full house Wow wow Vince il joller Per questo battuta di merda Wow wow Vince il joller Ma sul murale se c'è scritto ciccione L'ho visto dopo Bellissimo Quindi abbiamo Paul McCartney Contro Kurt Cobain Beh I dei due I froci o le lesbiche È come la gimmick di WWE È vero Io voto i froci Va bene Voto i froci perché sembrano più felici Sembrano più allegri Sì Joller contro il cane scopato Adesso Secondo me è lui È lui È lui La carne in realtà è il joller Io ho voto però joller Perchè c'è una full house E mi faccerò morire Nesta strozza Il santino e i cani Nooo il santini con i cani Hai voto il santino Ah È il ritratto Non puoi essere più felice di così Ha raggiunto l'apice della felicità Ha sbustato Pacciani Olu Sì Tipico Papa Pacciani Reverso Vai vota Lo sbustamento Sì Cosa avrà fatto quest'uomo per essere tagliato fuori dalla forma Allora devo dire che tra questo E Cosa fa il signore col sacco Preferivo il signore col sacco E quindi vince il cristo E quindi vince il cristo Se ha perso il signore col sacco No affatto Questo non può vincere Mc20 La ciurma con l'alieno Cacchio Oh Però effettivamente la ciurma vince solo per lui Per la sua faccia Mentre Mc20 Vince solo per Mc20 Mc Io voto Mc20 comunque Per quanto Ha una faccia incredibile Sebastian Stan Ma guardali che schifo Non dà neanche il corpo Solo una testa Fa che il pallone da basket Da fare uno sticker Sì Io faccio con i flip Testo ha detto eh Io testo per il Mc20 Eh mi spiace Mc20 E ho vinto Sebastian Stan Ma guardalo Guardalo Filippo Argento come cazzo si chiamava Fabio Massimo Eh io voto Fabio Massimo Sì Fabio Massimo Fumatore l'alieno Fumatore da un chilo e mezzo Dai A parte che E' tipo viola la maglietta di Rick e Morty Mentre qua è azzurra Come funziona? Poteri dell'alieno Ah ok Botto all'alieno Paul McCartney Normale che mangia la pasta Paul McCartney spaventato E qua è Qua è tese A me piace quella a destra Sì perché sta provando Sta provando a diventare Mac Ma non ci riesce Perché lui è McCartney Mac Wow wow La vampata o l'infanzia di Arrian? La vampata Sì vabbè l'infanzia io La vampata o Cristo Ah Che cazzo Perché diventano sempre più difficili? Vabbè Io ti voto La vampata Vabbè L'alieno o Mach 10? Mach 9 io Io voto l'alieno Io crocio a sto giro E infatti è perso E infatti dovevo fare testa Mai cambiare Joller o ciurma Cacchio Che cazzo è? Ma poi non è mai spuntato lui Beh ci vede solo lì Che la foto Ebbè l'alieno Poi si è andato E lui Io voto comunque il Joller Full House Full House totale Va bene dai Solo per Full House Per dell'alieno Anche la sciarpina viola Fabio Massimo Oh Pacciani Fabio Massimo Oppure lo sbustamento di Pacciani Io voto Pacciani Mi spiace per Fabio Massimo Eh qua è dura cosa vuoi Testa Dovevi fare croce Vince Pacciani Vince Pacciani Solong Fabio Massimo L'alieno contro Pacciani Porca vacca Cacca Io voto l'alieno Però aspetta Ma guarda quanto è felice Madonna Infatti a sinistra non è più felice Perché non aveva ancora la figurina Oppure l'alieno gli era fottuta La sta sbustando a sinistra E poi la trova Anche se non è mai vestito uguale No infatti è l'unico Io voto a sinistra Va bene dai te lo concedo Joller o Vampata No questa era la finale Sì Io voto il Joller Sì Ma c'è uno a destra? Questi sono dei pantaloni Nella foto dei Joller È vero Un sdraiato flosho da dio È tipo 90 È tipo flosho sdraiato Sì Come funziona? Vince il Joll Joller vs Alien E tra l'altro Joller non è presente In queste foto di gruppo Non lo invitano mai È l'alieno? No l'alieno è un altro Ah è vero Eh sta facendo la foto giustamente Io voto la lì Eh sì ciao scusa Joll Però aspetta Perché qui c'è Mac che è fermo Quindi probabilmente l'alieno Ha dato dei poteri a tutti Lui ora è bianco Lui non so che fine abbia fatto Queste erano normali Sono diventate lesbiche Perché Lui ha cambiato il colore della maglietta Ha trovato Pacciani Lui è diventato Rufy Lo era già Però gli ha dato i costumi da Rufy E lui Open end Parkinson velocissimo Io voto comunque il Joller Perché ha un cappello bello Tipo Speedwagon Posto Vediamo chi ha vinto Almeno ha fatto un discorso enorme Poi ha detto va bene Quando ho detto Joller Si Era già d'accordo E vince il Joller ovviamente Si che vince il Joller Ma forse perché siamo gli unici Che abbiamo fatto un suo fufu Può essere No non è vero Perché questo non è mai arrivato così in alto È vero E questo era Quanto è durato 42 minuti Di seconda parte Vediamo se il Marcio ha fatto qualcos'altro Ne ha fatto un sacco Ho fatto il mezzo personaggio anime E con questo si conclude L'UVFUFU di Il Marcio Lo salutiamo Un saluto a Il Marcio Che ci guarda da lassù Grazie uomo Non sapevo mai chi sei tra tutti quelli No assolutamente